Si chiama Alinea Gustaf ed è il nuovo prodotto turistico che il Parco Nazionale della Maiella con il GAL Costa dei Trabocchi e il GAL Maiella Verde si avviano a costruire e promuovere in maniera congiunta. Stamani a Pescara è stato firmato il protocollo d'intesa tra gli enti preposti per la realizzazione di un progetto turistico sulla Alinea Gustaf. Sì, noi da tempo stiamo collaborando insieme con il GAL Costa dei Trabocchi nella creazione di questi itinerari cicloturistici. Adesso chiaramente viene l'idea di collegare questo discorso anche a un discorso storico che è quello della linea Gustaf in collaborazione con il GAL e il Parco Nazionale della Maiella e quindi creare questi percorsi raccontando anche un po' quella che è stata la storia. La cosa più interessante sarebbe in seguito, ma questo lo vedremo appunto in seguito, di collegare appunto la costa adriatica con quella tirenica e quindi arrivare fino ad Anzio con la collaborazione magari con i GAL Laziali, ma questa è una cosa che vedremo in seguito. Grazie a questa volontà di collaborazione reciproca con il GAL Maiella Verde e il Parco Nazionale della Maiella nasce questo protocollo d'intesa per realizzare e promuovere la ciclovia e il cammino della linea Gustaf che con un obiettivo molto ambizioso perché già il 18 di maggio di questo anno inaugureremo il percorso ciclabile ed un pezzo della pedonale all'interno della manifestazione Arbike and Run. Quindi i primi 200 chilometri verranno realizzati. Poi ci sarà una narrazione, la costruzione della narrazione ovviamente la segnaletica è un pezzo dell'iniziativa, ma la narrazione del tutto nei prossimi anni si svilupperà e quindi avremo un prodotto che arriverà nei nostri obiettivi fino ad Anzio, cioè fino all'altra costa. Di Vincenzo, un prodotto turistico che vuol valcare sicuramente confini regionali, ma non solo, anche quelli nazionali? Ma diciamo che l'obiettivo, il tema della linea Gustaf è un tema di interesse mondiale. Alla guerra hanno partecipato dai polacchi e canadesi, agli australianiani, agli nazionalandesi, ai tedeschi ovviamente dall'altro lato e quindi abbiamo due importantissimi cimiteri, quello di Ortona e quello di Torino di Sangro, quindi quello inglese e quello del Commonwealth. Quindi due punti di riferimento strategici, stiamo collaborando anche con l'Associazione Mondiale dei Cimiteri di Guerra proprio perché diventino uno dei perni della valorizzazione di questi territori, pensando però ad un concetto, quello della pace.